e poi in linea allo studio. Adesso credo che bisogna distinguere le cose, distinguere le elezioni del Presidente della Repubblica che non è una roba da stadio, curva nord contro curva sud, e pensare a lavorare su una riflessione seria sul centro-destra. Noi siamo stati e siamo una coalizione, non siamo un partito unico del centro-destra. Evidentemente le sensibilità sono diverse, bisognerà verificare se queste sensibilità continuano a essere compatibili. Grazie.